buon sabato a tutti cari telespettatori di fano tv ben ritrovati alla rassegna stampa del mattino ovunque voi siate qualunque cosa stiate facendo ben ritrovati sul canale 17 di fano tv adesso andiamo subito a vedere il calendario il tempo e poi i titoli oggi è san gennaro allora san gennaro vesco il sole è sorto le 6 54 tramonterà le 19 15 il tempo allora per la giornata di oggi avremo un cielo sereno sulla regione con qualche nuvola qua e là le temperature in lieve diminuzione in particolare quelle della notte avremo un po di vento moderato lungo la costa per domani domenica 20 settembre vedete nella parte interna della nostra regione avremo possibilità di isolati rovescio temporali nelle ore più calde della giornata sulle vette appennini che dalla serata poi possibilità di deboli piovaschi nel settore meridionale della regione ancora un po di venti in rotazione dal tardo pomeriggio anche lungo la costa da sud lunedì giorno sia domenica e lunedì sapete si vota quindi è importante anche sapere com'è il tempo lunedì nell'entroterra ci saranno precipitazioni soprattutto in colline in montagna e occasionali lungo la costa ma limitatamente all'anconetano quindi le temperature in aumento anche quelle della notte la presenza di una serie di perturbazioni nell'europa centro settentrionale lascerà la nostra regione esposta a flussi sud occidentali stabili che porteranno condizioni di variabilità nelle giornate di lunedì appunto martedì e qualcosa anche nel resto della della settimana per quanto riguarda le temperature se volete velocemente possiamo andare a vedere un attimo la previsione per oggi alle 14 come vedete sono pesero fano 23 24 gradi ma osimo 27 28 insomma ancora temperature direi piuttosto gradevole subito a leggere allora i titoli d'apertura delle prime pagine dei due quotidiani il resto del carino il corriere adriatico cominciamo dal resto del carino questa è la pagina di fano storico ristoratore muore in mare questo è il titolo d'apertura una tragedia all'ora di pranzo la vittima è romano bartolini titolare del bayon era uno dei simboli di gabice poi le regionali si è chiusa ieri a mezzanotte la campagna elettorale acquaroli mangelardi e gli altri sei gli altri sei sono i candidati alla presidenza della regione ultimi fuochi veleno sul voto invece minacce alleghista ser filippi sempre dalla prima pagina candidato della lega a fano quarantenni gravi invece questo è il titolo della fotonotizia del carino di oggi due ricoverati in terapia intensiva ma subito mettiamo le vani avanti diciamo queste due persone alle quali noi facciamo e auguriamo tutto il bene del mondo e sono due quarantenni che sono in sovrappeso hanno soffrono di ipertensione e anche di diabete quindi e probabilmente con tutta probabilità con il plasma iperimmune usciranno con le loro gambe dal san salvatore quindi i titoli vanno bene ma bisogna anche poi andare ad analizzarli leggere gli articoli e non farsi prendere dalle paure che in questo momento non devono esserci mentre la prudenza deve essere al primo posto andiamo torniamo sul giornale allora decine di studenti in isolamento la scuola i tamponi arrafica dunque una salita una partenza in salita mentre a proposito della battaglia contro il covid dopo sei mesi in ospedale il ritorno a casa di questa persona che il giornale ha intervistato questa mattina ma parliamo di un ricovero appunto di sei mesi fa quando la storia era assolutamente completamente diversa tra volte ucciso dal treno invece dolore e lacrime per l'artista Gabriele Bartoletti si è buttato sotto un treno l'altra notte tra Fano e Pesaro mentre al Miralfiore al parco sorpreso con la droga e un pugnale è stato arrestato lo sport anzi c'è lo sport e la cronaca quindi in basso sul prima pagina del Carlino da Fano ragazzini al parco con ascisce mariuana controlli della polizia dopo le segnalazioni dei residenti cinque minorenni sono finiti nel mirino il calcio invece vis e alma svolta per i tifosi mille sugli spalti la società si sta organizzando dopo la decisione del ministro oggi doppia amichevole vediamo come titola invece l'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico Bus Pollaio primi correttivi AMI interviene dopo le segnalazioni da parte delle scuole la tratta più critica è la Fano Pesaro proteste anche per il servizio di collegamento per gli studenti che provengono dalla Romagna centro pagina droga e spaccio coinvolti ragazzini a Fano nel quartiere Poderino poi si insediano i seggi e 15 scrutatori saranno sostituiti questo è un lavoro che solitamente avviene quando c'è qualcuno che rinuncia per motivi personali insomma per altri motivi certo 15 magari sono un po' troppi qualcuno probabilmente ci ha ripensato Urbino Calcagnini ragiona già da nuovo rettore daremo continuità prenderà il posto di Vilberto Stocchi poi dalla Capitaneria di Pesaro arriva la prima donna comandante è la prima volta anche a livello nazionale ma c'è una doccia fredda se vogliamo questa mattina sul Corea Adriatico perché la notizia che tra l'altro avevamo commentato nei giorni scorsi sempre qui in Rassegna Stampa la bella notizia anche se poi speriamo davvero di non utilizzarla mai come eliambulanza ma insomma l'elisoccorso notturno è comunque una cosa che ci dava un po' di tranquillità in realtà un po' come aveva detto Ceriscioli dicendo che l'elisoccorso notturno sarebbe stato un po' per i marchigiani come avere sempre l'ospedale di fronte sotto casa in realtà il trasporto di notte scrive Lorenzo Furlani oggi sul Corea Adriatico il trasporto di notte dei pazienti con l'elicottero richiede più tempo che con l'ambulanza quindi voglio dire stiamo freschi allora ripartiamo dalle pagine interne andiamo subito a vedere e parliamo di elezioni perché ripeto domani e dopodomani siamo chiamati ad andare a votare Acquaroli e Mangialardi caccia gli indecisi, il centrodestra vuole le marche è l'ora del cambiamento, il centrosinistra intrincea, i fondi europei garantiranno lo sviluppo vedete Acquaroli e Mangialardi in questo articolo sul Carlino Acquaroli, il candidato voluto e sostenuto da Giorgia Meloni conferma anche nel finale la sua campagna elettorale un po' defilata chiude a casa sua in piazza stazione a Porto Potenza Picene il comune macerettese di cui è stato sindaco prima di candidarsi nell'ordine a Regione Europea al Parlamento e ora cinque anni dopo di nuovo alla presidenza delle Marche sempre con il sostegno di Giorgia Meloni non ha subito forti contraccolpi Acquaroli dall'errore del pranzo per la marcia su Roma lui ha detto passai solo a salutare e non ne sapevo niente sfido a trovare una sola mia dichiarazione nostalgica ho sempre celebrato, dice ancora Acquaroli, il 25 aprile da sindaco dall'altra parte invece c'è il Partito Democratico che non è riuscito a ripetere l'operazione antifascista dell'Emilia Romagna con sardine e liste di richiamo con marche coraggiose il sindaco di Senigallia ha chiuso la sua campagna elettorale a Urbino prima e a Macerata con Zingaretti poi nella nottata ha finito tutto poi a Caldarola in area terremotata e cosa dice Mangialardi? andate a votare, non perdete un'occasione così importante per la Regione con i fondi europei possiamo eliminare il gap infrastrutturale e quindi punta insomma sul recovery fund e su quegli 8 miliardi che dovrebbero arrivare Mangialardi punta sul voto utile per convincere lo zoccolo duro dei 5 Stelle che ha rifiutato l'alleanza elettorale e punta sul candidato Gian Mario Mercorelli insomma nelle marche però tutto è possibile due anni fa la Regione si tinse di giallo con il Movimento 5 Stelle al 35% altro che Regione rossa e sul Carlino c'è spazio anche per appunto gli altri Mercorelli dei 5 Stelle dice scegliete noi o vi faranno vedere il solito film il candidato nella sua Tolentino non abbiamo nessuna paura del confronto con loro ai seggi però qualcuno sta già ragionando e dice ma insomma andiamo ci sarà sembramento, ci sarà confusione ci sarà il rischio di prendersi il virus beh insomma non c'è nessun rischio di prendersi il virus se uno mantiene le distanze, si igienizza le mani, mette la mascherina non c'è nessun rischio ma questo anche fuori dai seggi ma ci sono comunque regole anti-Covid come scrive il Corriere questa mattina operazioni di voto in sicurezza all'appello del sindaco di Pesaro Ricci e del responsabile dell'ufficio elettorale che dice stiamo lavorando a pieno ritmo allora intanto dando qualche numero e cominciate in qualche modo cominciamo a metterci l'animo in pace perché di numeri da qui a lunedì sera ne sentiremo i percentuali fino alla nausea ma cominciamo a darne qualcuno in tutto nella provincia di Pesaro Rubino sono 405 le sezioni aperte da dove domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si potrà votare e per il referendum sul taglio dei parlamentari e per la regione ma ci sono anche dei comuni come Isola del Piano e Sant'Angelo Invado che votano per eleggere il nuovo sindaco mentre a Monteciccardo si vota per la municipalità nella provincia sempre di Pesaro Rubino il numero degli elettori totali è pari a 276 mila insomma quasi 277 mila persone di cui la maggior parte sono donne 141 mila contro i 135 mila i neo, quelli che potranno votare per la prima volta i neo diciottenni sono in provincia di Pesaro Rubino 634 ora come dicevamo mancano una quindicina di scrutatori che avendo rinunciato di recente per motivi familiari o personali non è stato ancora possibile sostituire tra le novità di voto c'è coloro che si trovano in quarantena chi si trova in quarantena, lo ricordiamo, non può uscire quindi non può assolutamente uscire di casa chi è in modo certificato è all'obbligo di stare in casa non può uscire quindi deve e può votare comunque a casa fino a martedì erano state poco più di 20 cioè 22 per la precisione le richieste pervenute per il voto domiciliare 6 a Pesaro, 11 a Fano, 3 a Gradare, 2 a Gabicemare per questi la legge prevede che il voto sia raccolto dal presidente del seggio speciale il seggio speciale è istituito presso la sezione ospedaliera del comune di Pesaro mentre per quanto riguarda tutti gli altri ecco ribadiamo che per quanto riguarda la sicurezza le regole sono le stesse che abbiamo imparato in questi mesi mascherine, gel, gel igienizzante saranno disponibili tra l'altro sul posto sui seggi anche gli erogatori attendere l'ingresso del plesso il proprio turno per evitare assemblementi la misurazione corporea non è necessaria però sono previste operazioni di pulizia dentro l'area di voto di pulizia con cadenza regolare quindi insomma sicurezza che sarà garantita anche per gli studenti che poi il giorno dopo le elezioni torneranno ad occupare le classi sanificate e allora visto che abbiamo accennato del Covid durante questa prima escursione di pagine dei giornali riferendoci alle elezioni adesso andiamo a vedere qual è la situazione nelle Marche per quanto riguarda appunto il coronavirus ci sono adesso i focolai in famiglia questo è un po' il problema anche se io ho tracciato con il pennarello rosso vedete qui in alto nella tabella che fa vedere l'indice di contagio il famoso R con T qual è la situazione nelle Marche ancora la situazione diciamo è nel senso non preoccupa perché ci sono regioni come addirittura il Friuli Venezia Giulia che è già sopra l'1,11 Liguria 1,32 1,08 in Sicilia le Marche sono a 0,85 quindi l'indice di trasmettibilità per le Marche è stabile aumenta l'incidenza settimanale di nuovi casi positivi ieri 29 contagi più della metà riguardano cluster per contatti domestici in tutto 11 oppure in una struttura di accoglienza ora tornando poi a scuola anche i nostri figli i ragazzini e quant'altro è chiaro che adesso sono loro quelli che potrebbero veicolare il virus quindi cosa bisogna fare? semplicemente fare un po' di rinuncia anche i figli si evitano i baci si evitano queste cose di starci troppo attaccati si mantengono un po' le distanze anche in famiglia purtroppo questo è da dire e questo è da fare anche in famiglia quindi niente visita ai nonni niente visita eccetera quindi queste sono le cose purtroppo che dobbiamo fare ora andiamo a vedere e togliamoci subito questo dente il resto del carlino che questa mattina titola un po' in maniera così traumatica un po' forte ma ripeto bisogna poi anche saperli leggere i titoli e non farsi prendere subito dal panico il virus non molla e su questo nulla da dire il virus è c'è ancora abbiamo detto tornano i casi gravi ecco qui già qualcuno potrebbe preoccuparsi ecco qua due quarantenni sono finiti in terapia intensiva ora anche questo è vero però dobbiamo andare a capire chi sono questi due quarantenni vedere un attimo qual è la situazione per poter fare un per poterci dare un'idea allora intanto risponde il dottor Tempesta che è il primario del reparto di terapia intensiva e risponde a Simona Spagnoli questa mattina che lo ha intervistato questi malati hanno qualcosa in comune cioè questi due quarantenni che sono in terapia intensiva intanto risponde Michele Tempesta sono piuttosto giovani avendo unità e intorno ai 40 anni inoltre sono in condizioni di sovrappeso e soffrono di patologie croniche come il diabete e l'ipertensione con questo profilo sono considerati soggetti più a rischio domanda risposta nella nostra casistica indubbiamente sì ne abbiamo visti tanti la scorsa primavera hanno possibilità di uscire dalla fase critica anche in base alla sua valutazione risposta del primario la possibilità sicuramente c'è detto questo in considerazione del fatto che questa è una polmonite molto importante è difficile comunque stabilirlo a priori ma questo te lo dicono anche se vai a togliere un'unghio incarnita e nelle cure cosa è cambiato rispetto alla prima fase abbiamo il plasma iperimmune e su questo abbiamo visto per esempio che da noi dove si fa la sperimentazione a Marche Nord due sono stati curati con il plasma iperimmune e due sono pur essendo arrivati a un punto anche grave quasi al limite dell'essere spacciati se ne sono usciti dall'ospedale con le proprie gambe e sono stati curati con il plasma iperimmune ed avevano un'unità anche insomma non proprio giovanissimi quindi dai 60 anni in su ora io so quello che voglio dire è di non chiaramente sottovalutare il pericolo ma di non farsi prendere dal panico la paura è la cosa peggiore che noi possiamo in questo momento riprendere in mano quindi lasciamola da parte non facciamoci condizionare continuiamo a stare come dire con la testa sulle spalle e fare la nostra parte perché il virus lo possiamo sconfiggere soltanto ognuno di noi vaccinazioni nel fine settimana ma per le dosi si attenderà si potranno anche allestire dei gazebo fuori dagli ambulatori per agevolare la campagna anti-influenzale questo è un altro aspetto importante soprattutto per appunto gli anziani le famose categorie di persone deboli o fragili come dir si voglia è importante anche la campagna anti-influenzale abbiamo già detto più volte che l'Asur 1 quella che si riferisce a Pesor Urbino appunto ha ordinato moltissime dosi di vaccino in più perché si spera di fare appunto questa copertura ancora più capillare e Letizia Francesconi sul Corriere Adriatico anche qui lei scrive alcune cose interessanti dove appunto si capisce come l'Asur sta portando avanti questa prima fase in attesa di iniziare appunto le vaccini le vaccinazioni la campagna anti-influenzale dice partirà così come è stato anticipato entro il 15 20 ottobre prossimo anche se ancora c'è bisogno di qualche regola un po' da chiarire ma per il resto insomma si vuol partire un po' prima anche per evitare poi la confusione che potrebbe nascere quando uno prenderà la semplice influenza e non il coronavirus raffica di tamponi anche ai bambini scuola rischio caos decine di alunni in isolamento e ieri il drive-in è stato soprattutto pediatrico le regole dell'area vasta per aiutare gli insegnanti a riconoscere i sintomi dunque ci sono diverse decine di studenti in isolamento nel pesarese ora anche questa situazione quando si parla di persone che sono positive non significa che sono persone malate quindi anche qui dobbiamo fare attenzione non è la fine del mondo anche chi fa il tampone cioè non è che uno è spacciato è uno che fa il tampone punto quindi ci sono ecco dei termini delle situazioni che dobbiamo chiarire bene questo lo dico soprattutto per gli anziani allora travolto e ucciso cambiamo pagina travolto e ucciso dal treno a notte fonda addio all'artista Gabriele Bartoletti il tragico impatto all'altezza dei bagni Miramare ipovedente e illuminato aveva collaborato con il maestro De Santi a causa di una malattia diventò quasi cieco adottò una propria tecnica però per continuare a dipingere 69 anni Gabriele Bartoletti di Pesaro un volto conosciutissimo nell'ambito dell'arte Bartoletti era nato in città il 19 luglio del 1951 e abitava appunto a Pesaro si era diplomato all'istituto di Belle Arti nato alla scuola del libro di Urbino aveva esposto le sue opere in numerose mostre sia nazionali che internazionali anche il Corriere Adriatico titola sulla pagina sulle pagine interne pagina 15 travolta ucciso dal treno in corsa identificazione avviene dopo ore l'uomo 69 anni è stato straziato dall'impatto con un merci nella notte sotto monte mentre l'adrinazione al Maraviglia hanno rubato a Pesaro 450 euro la titolare dice un mistero come abbiano fatto ad entrare Romano Bartolini invece muore tra le onde era il titolare del ristorante Bayon Gabice è successo ieri all'ora di pranzo annega l'imprenditore che gestiva anche i bagni Norma è successo intorno alle 13 e 0 5 mentre sulla pagina di fano del Carlino stupefacenti e sballo parliamo ancora di droga ne gira tantissima nelle nostre città da far paura questo dovrebbe far paura davvero stupefacenti e sballo nei giardini interviene il commissariato 5 minorenni 5 minorenni trovati in possesso di dosi di hashish e marioana tra i 15 e i 17 anni si intrattenevano quotidianamente nel parchetto del poderino vedete nella foto alle spalle della scuola medianuti e così decine di famiglie infastidite da quella presenza molesta per di più ritenuto anche un pericoloso esempio per i propri figli ha deciso di segnalare alle forze dell'ordine quei passaggi di mano strani visti consumarsi tante volte sul manto erboso di quei giardini sottostanti dall'alto dei palazioni residenziali che si affacciano quindi da lì è partita poi la segnalazione la città ricorda la città di Fano ricorda Italo Nannini a sei mesi dalla morte sono già passati sei mesi da quel triste 22 marzo in cui tutta Fano si fermò per piangere il piccolo grande uomo che aveva l'Africa nel cuore le precarie condizioni fisiche di Italo Nannini presidente fondatore dell'Africa Chiama precipitarono improvvisamente quella mattina e non gli hanno lasciato scampo nonostante la malattia che la affliggeva da anni non che comunque in tutto quel tempo non l'aveva mai minimamente intaccato soprattutto nel suo impegno attivo a favore delle popolazioni più fragili del continente c'è questa questa edizione ci sarà martedì 22 settembre alle ore 19 una santa messa nella parrocchia della Santa Famiglia a Fano 2 la pagina di Fano del Corriere invece anche qui la notizia di uno spacciatore 17enne che è stato preso per il consumo però sono finiti nei guai anche 4 ragazzini giro di droga tra minorenni scoperto al poderino 113 chiamato dai residenti esasperati dagli schiamazzi sequestrati anche 40 grammi di ascisce e marijuana poi qui sempre dalla pagina di Fano del Corriere minaccia via Instagram a Ser Filippi Luca Ser Filippi candidato alle regionali della Lega gli hanno scritto semplicemente così muori il candidato dice è la prima volta che mi capita se mi chiede scusa però non lo denuncio se richiamarici qui siamo sul Carlino di Fano le due città dialoghino dice il sindaco di Fano che sottolinea l'attenzione sul collegamento Fano-Pesaro arretramento della ferrovia adriatica sulla sanità cultura e turismo ora chiaramente di fronte alla possibilità per un amministratore che deve far quadrare i conti ogni giorno del bilancio sapere che in provincia di Pesaro potrebbero arrivare due miliardi da recovery fund o comunque nelle marche potrebbero arrivare otto milioni chiaramente un amministratore comincia a non dormirci la notte e cerca ogni sponda buona ogni sinergia possibile per cercare di attirare di convincere ad avere a farsi dare almeno un pochettino di questi soldi di questi miliardi e quindi cosa fa? Il sindaco di Fano ha pensato di allearsi comunque con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e che cosa fa? Rispolvera un po' un vecchio documento che era del 2017 un accordo che appunto prevedeva alcune cose sia per quanto riguarda la viabilità i collegamenti per esempio tra Fano e Pesaro nel documento si parlava della variante alla statale 16 belgatto interquartieri oppure del casellino di Fenile che sarebbe appunto un progetto strategico da realizzare perché dice sappiamo che il tratto finale dell'interquartieri non è la soluzione per il collegamento tra Fano e Pesaro ma serve principalmente a migliorare soltanto la viabilità interna insomma altre cose che poi potrete leggere sul giornale di questa mattina un articolo che ha scritto Anna Marchetti così come Anna Marchetti si è occupata questa mattina dei parcheggi sempre a Fano in Viale Gramsci ora andranno il Viale Gramsci è dove si fa il carnevale d'inverno lì in questo momento si può parcheggiare con il disco orario uno va lì parcheggia alcuni sono libri altri con il disco orario insomma tra poco andranno tutti a pagamento e quindi saranno quelli sia ad est su entrambi lati della strada Aset è pronta a partire con i lavori e questo servirà servirà anche per ricambiare un po' gli spazi perché c'è gente che sta lì parcheggia e poi se la dimentica l'elisoccorso notturno impiega più tempo del trasporto a bordo dell'autoambulanza ora questo è un articolo tutto da leggere perché chiaramente è il paradosso del servizio avviato in modo zoppo dalla regione quattro giorni prima delle elezioni forse voleva essere anche questo una sorta di come dire specchietto per le allodule ma comunque ora è abilitato questo anche l'aeroporto di Falconara ma anche con le superficie di torretta resta l'handicap e qui c'è c'è questo riquadro nel quale si possono leggere i tempi espressi in minuti tratti nella tabella del documento dell'Asur e dove si evince che si fa prima di andare con l'ambulanza che con l'elicottero di notte ecco questo è il confronto dei tempi del trasporto non abbiamo purtroppo tempo di leggerlo ma ci torneremo al voto 51.000 faunesi l'età da 18 a 105 anni spostata la sede solo di quattro seggi elettorali c'è anche poi non dimentichiamocelo il referendum sulla pista ciclabile strategica sempre da Fano per aree urbane cruciali approvato lo studio di fissibilità dell'opera che collegherà piscina aeroporto e parco urbano quindi è un vecchio pallino dei sostenitori non solo dei sostenitori più agguerriti della mobilità dolce una ciclabile dunque la via Papieria costerà 1,6 milioni di euro mentre velocemente andiamo sulla pagina del resto del calino anche qui il giornale si occupa della minaccia sui social a Ser Filippi muori altro inquietante episodio in questa campagna elettorale il candidato dice ho già segnalato l'episodio alle forze dell'ordine a Pesaro invece Capitaneria prima donna al comando io fiera e orgogliosa del mio compito il capitano di fregata Barbara Magro succede a Maurizio Tipaldi un dibutto a livello italiano ha messo alle scarpe migliaia di pesaresi oggi alza la saracinesca per l'ultima volta Gilberto Marconi nel suo negozio di corso 11 settembre dopo più di 50 anni dunque chiude lo storico negozio di calzature mentre dalla Valle Foglia Monbaroccio è fuoriclasse lezioni in teatro e in giardino Urbino continuità per essere più competitivi così rafforzeremo l'offerta normativa formativa dice il professor Giorgio Calcagnini già pro-rettore ma che lo diventerà nei prossimi giorni il mercato di nuovo nel corso ampi consensi alla proposta a Fossombrone si libererebbero così le strade attigue alle scuole dell'infanzia e primaria turismo a Frontone e lavoro sul Catria gli attacchi sono strumentali il sindaco di Frontone replica agli ambientalisti pienone sugli autobus e anarchia a bordo l'autista non può controllare tratta Pesaro Campus Cattolica la paura dei genitori Pro Urbino si rifonda e diventa Pro Loco l'associazione entra nel circuito nazionale per questo cambia il nome Fano prove generali con il Cesena oggi alle 17 al Mancini sempre a porte chiuse siamo sempre allo sport Alma Test con il Cesena prove di campionato poi la Vis che oggi a Empoli si misura con la B per la terza volta alle 17.30 nuova amichevole di lusso e la Vis sempre sul Carlino Bosco stadio ai primi mille tifosi il ministro concede dunque la capienza VL segnale positivi in vista del campionato il DS Cioppi fa il punto della situazione con questo sprint finale chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo lunedì dalle 16 la maratona che ci porterà fino a notte per lo spoglio delle elezioni regionali seguiteci anche sui social sul sito internet occhioalanotizia.it perché come al solito siamo pronti per darvi tutte le informazioni necessarie per essere aggiornati in tempo reale arrivederci e buon fine settimana a tutti Grazie a tutti